La Regione Piemonte ha aderito all'impegno per la riduzione delle emissioni globali e per il contenimento del riscaldamento a meno di 2 gradi entro il 2050. Il protocollo è stato firmato a Palazzo Lascaris. Nell'occasione la Giunta ha illustrato le azioni che la Regione Piemonte metterà in campo per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera.